Un altro attentato in Francia e probabilmente la matrice è sempre la stessa, l'integralismo islamico che si ispira all'ISIS. Chiediamo all'Europa il coraggio di guardare in faccia un nemico e di combatterlo, chiediamo al governo italiano lo stesso coraggio, chiediamo l'approvazione della proposta di introduzione del reato di integralismo islamico, storica proposta di Fratelli d'Italia e chiediamo alla comunità internazionale di combattere l'ISIS anche in Siria dove c'è chi ogni giorno combatte per questo scopo che noi dobbiamo sostenere e aiutare.